Schianto mortale ieri sera, poco prima delle 20, sulla stradale 115 Geralicata, nei pressi di Contrada Montelungo, al chilometro 259. Una donna di 56 anni ha perso la vita e ci sono anche due feriti. Si tratta del marito, della vittima e della conducente di una delle due vetture coinvolte nel pauroso e tragico sinistro. Ed è seduta sul colpo Gaetana di Fede, che si trovava sul lato passeggero della Nissan Qashqai, condotta dal coniuge Gaetano Cauchi, 59 anni, commerciante di mobili. L'uomo è un ospedale politraumatizzato, ma non in pericolo di vita. In ospedale c'è anche la 43enne che guidava l'Arenoclio. Si tratta di Roccatasca. Le sue condizioni non sono gravi. Da chiarire da parte degli agenti della polizia stradale e del locale di staccamento le cause del mortale incidente. Una delle ipotesi è che l'Arenoclio abbia invaso la corsia opposta, per cause ancora da accertare, mentre stava dirigendosi verso Licata. La Nissan Qashqai, a seguito del terribile impatto e dove avere colpito la segnaletica stradale, si è capovolta. Per Gaetana di Fede non c'è stato nulla da fare. Completamente distrutta anche la Arenoclio. La vittima e il suo marito stavano dirigendosi a Gela, provenienti da Manfria, per assistere ai riti della Settimana Santa. Sul posto del gravissimo incidente stradale sono giunti anche i vigili del fuoco e le ambulanze. Un vera di santo di sangue in città che ha allistato ancora più a lutto la giornata più lunga e dolorosa della Settimana Santa. Era già accaduto il vera di santo del 6 aprile di 4 anni addietro. In quell'occasione un ragazzo di appena 24 anni perse la vita a seguito di un incidente stradale autonomo, mentre in sella alla sua moto percorreva la strada che costeggia il Bosco Rittorio a pochi passi dalla lungomare Federico II di Svevia nei pressi del fiume Gela. Il ragazzo, nonostante indossasse il casco di protezione, perse il controllo del mezzo, il casco gli volò via e batteva lentamente il capo sull'asfalto, morendo sul colpo.